Questa si è bella, subito ce la giochiamo Noi non abbiamo niente qua Francis Femmo la sigla in diretta Ho visto che comunque ripetiamo in gran parte le cose di settimana scorsa E aggiungiamo un po' iucco Ok, giusto Monica? Cominciamo il percorso di analisi delle spese Che possono essere messe in liberazione delle red Che abbiamo le informazioni utili Esatto Però partiamo